goku contro la squadra sigma nell'episodio in cui goku affronta la squadra speciale sigma si nota che questa squadra speciale è riuscita a crearsi grazie all'unione di una serie di robot costruita appositamente per sconfiggere i protagonisti comunque nonostante la loro fusione in un unico essere che ha permesso la loro potenza combattiva di essere incrementata goku riesce a sconfiggerli con nemmeno troppa difficoltà